Domani si completa un altro trittico settimanale con il passaggio conquistato in finale di Coppa Italia. Si torna al campionato e c'è da riprendere a tutti i costi il feeling con i tre punti. C'è da riprendere il campionato con la vittoria. Affrontiamo una squadra che non sta vivendo un momento di forma nelle ultime tre partite, però affrontiamo una squadra organizzata, allenata in ottima nella torre fino a 4-5 partite fa, batteva l'angolana fuori casa e si trovava in zona pre-off. Adesso sta vivendo un momento negativo, noi dobbiamo essere bravi di approfittare di questo momento. Dobbiamo entrare in campo con atteggiamento giusto. È una squadra che è vogliosa di portare a casa questo armosdivo perché è una partita importante perché da qui alla fine adesso si possono sbagliare poche partite, poche volte, non puoi perdere pochi punti, soprattutto in casa. In Coppa hai cambiato quattro uomini dell'undici titolare o tra quelli che sono stati più utilizzati finora. Domani si attendono ulteriori cambiamenti? Sì, rispetto alla parte di Coppa sicuramente. Qualcosina cambierò, devo valutare le condizioni di alcuni giocatori che hanno giocato due partite di fila, quindi è sempre la terza partita di una settimana, quindi devo valutare il recupero di alcuni ragazzi. L'emergenza offensiva, vista gli infortuni di Osses e Mercado, può essere compensata dall'arrivo che verrà ufficializzato in giornata di Santi Rocco? Che giocatore è? Sicuramente. Santi Rocco è la classica prima punta, è quel giocatore che noi cercavamo, è un obiettivo che ci erano prefissati da tanto tempo, è quel giocatore che, soprattutto nelle partite sporche, quando trovi squadre chiuse, è quel giocatore che ci può dare ulteriori possibilità di avere più struttura dentro l'arrivo, perché avevamo pieno adesso solo DOS, perché lui come prima punta non ha quelle caratteristiche diciamo come Santi Rocco, però sicuramente è venuto un giocatore valido per la categoria, che conosce la categoria, un giocatore voglioso di mettersi in mostra. Grazie. Grazie.